Amici del vaso di Pandora, benvenuti, ben ritrovati. Cominciamo una nuova settimana e analisi geopolitica, analisi di politica internazionale. Allora alcune notizie prima di iniziare e di presentare i nostri consueti ospiti del lunedì. Polonia e Finlandia sostengono la confisca di asset russi per finanziare l'Ucraina. Lo hanno dichiarato congiuntamente il primo ministro polacco Mateusz Morawiecki e il primo ministro finlandese Sanna Marin, proprio congiuntamente. Mosca ha dichiarato che la Russia intende informare la comunità mondiale del rischio di un incidente nucleare nella città di Zaporizia. A Kiev salta il piano di emergenza elettricità, la città è al buio. Jens Stoltenberg, il segretario della Nato, ha dichiarato che la guerra si concluderà al tavolo dei negoziati, però intanto ha invitato a fornire più armi all'Ucraina, altrimenti l'Ucraina cesserà di esistere. Queste sono le ultime notizie di queste ore. Io presento i miei ospiti, finalmente Stefano Orsi, benvenuto, ben ritrovato. Buongiorno a tutti. E benvenuto e ben ritrovato a Giacomo Gabellini. Buongiorno a tutti, grazie. Giacomo, ciao Giacomo. Allora, stanno cambiando gli equilibri e le posizioni degli stati dopo le recenti vicende militari che hanno visto coinvolto il territorio polacco. Come stanno cambiando Stefano? Dunque, innanzitutto dobbiamo ricordare che la vicenda del territorio polacco è legata a una mistificazione che è stata operata sulla reale natura del missile ed è stata suffragata dalle dichiarazioni polacche e ucraine da un lato e dall'altro. E quindi la diffidenza, se mai ce ne fosse stata ancora bisogno, dei paesi e delle opinioni pubbliche nei confronti dell'Ucraina è aumentata. Quello che si vede in questo periodo è che c'è un calo nelle forniture di armi economiche da parte dell'Unione Europea nei confronti dell'Ucraina. E questo è sempre più evidente. L'Ucraina stessa lamentava già un po' di tempo fa dei ritardi nei pagamenti. Loro avevano avanzato l'ipotesi di avere un miliardo e otto al mese per poter sostenere le spese su cinque necessari complessivi. Però non sono ancora arrivati da parte dell'Unione Europea. Ci sono delle evidenti difficoltà, ci sono alcuni paesi che richiedono determinate garanzie, altri che sono molto diffidenti come l'Ungheria e pertanto non si è ancora riusciti a quadrare la cosa. Chiaramente un episodio gravissimo come quello avvenuto il giorno 14-15 non fa che portare ulteriore acqua al mulino degli scettici o razionali. Le forniture militari sono destinate a calare da parte dell'Unione Europea in quanto la Germania ha più volte detto che il fabbisogno militare tedesco è superiore ai 20 miliardi di Euro e quindi devono iniziare a reintegrare le scorte e non possono più consegnare armamenti all'Ucraina. Inoltre se dalle fabbriche, ad esempio di proiettili d'artiglieria, acquista per sé la Germania, chiaramente lo fa magari in tutta Europa, ce n'è meno a disposizione per le vendite a terzi e quindi per l'invio in Ucraina. Tutti questi fattori devono essere osservati e controllati. Anche gli Stati Uniti in un recente articolo della CNN rilevano un calo preoccupante delle scorte strategiche di munizioni anche in calibro 155, cioè non le munizioni speciali ma quelle normali. Questo perché la produzione, anche se aumentata, non riesce a sostenere il ritmo di consumo di una guerra ad elevata intensità come quella che c'è in Ucraina. Questo fa ritenere che nel breve tempo potremmo assistere a un calo degli arrivi, quindi non più da depositi di esubero, ma possano arrivare magari tramite solo produzioni ex novo e quindi con tempi molto più dilatati. Questo naturalmente per l'Ucraina si traduce in un gravissimo problema nel mantenere la pressione sui fronti e nel poterli tenere dentro i termini che conosciamo oggi. Sentiamo Giacomo, intanto mi corrego perché prima ho commesso un errore, il primo ministro polacco si chiama Moraviechi. Giacomo, a te la parola. Direi che tutti quelli che arrivano, quelli che ha illustrato Stefano, quelli che hai menzionato inizialmente sono segnali che convergono verso una direzione che non sembra particolarmente favorevole ai difensori in questo scontro. Perché? Perché da un lato il fatto stesso di architettare quel genere di provocazione come quella del missile che immediatamente è stato attribuito ai russi da Zaneski in persona, mentre addirittura i polacchi che fino ad oggi si erano distinti per il transismo, per essere quasi collocati su posizioni addirittura più radicali rispetto agli stessi Ucraini e gli Stati Uniti, invece hanno evitato perlomeno di esprimersi immediatamente in merito all'accaduto e hanno convocato il Consiglio di Sicurezza e poi è emerso quello che è emerso, cioè che non era assolutamente un missile russo. Il punto è che evidentemente questo si cerca in tutti i modi di fare quello che abbiamo già avuto modo di evidenziare mesi fa con il caso della centrale di Energodar, quando la centrale, il cui controllo era stato assunto dai russi, era stata bersagliata ripetutamente da corpi di artiglieria ucraina. Qual era lo scopo? Lo scopo era quello di, piuttosto palese a mio parere, di obbligare lo schieramento della Nato a incrementare il livello del proprio coinvolgimento, chiaramente. Non significa l'articolo 5 come molti, un po' estericamente devo dire, hanno fatto non appena ci fu quel tipo di episodio e diciamo che questa cosa va ripetendosi, si ripete questo schema operativo in base al quale si crea un incidente ad hoc in modo tale da spingere lo schieramento della Nato con le spalle al muro e obbligarlo a intervenire. Ma questo significa che in realtà lo scontro, rispetto di come l'equilibrio strategico sul campo di battaglia, rispetto di come viene narrato, si sostiene le nostre attitudini, non stia andando esattamente nella direzione auspicata degli ucraini, perché naturalmente in presenza di un'inerzia positiva non si vedrebbe necessario porre in essere questo tipo di provocazioni che possono facilmente sfuggire di mano e provocare un'escalation incontrollata da un momento all'altro. Senti, la Polonia ultimamente sta facendo un po' la voce grossa, sta diventando molto baldanzosa diciamo. La Polonia ha molto da ottenere, ritiene davvero molto da ottenere per lo meno, perché già Naryshkin, direttore dei servizi segreti militari delle forze russe, sostiene da tempo che la Polonia avrebbe concordato con gli Stati Uniti in un piano di spartizione dell'Ucraina, in base al quale Varsavia si riaggiudicherebbe i territori collocati nella parte occidentale dell'Ucraina, che erano storicamente per certi periodi di tempo appartenuti alla Polonia, come per esempio la Galizia e la Polonia. Ci sono dei variati segnali che effettivamente inducono a ritenere questa tesi plausibile, per esempio i numerosi accordi di collaborazione che sono stati stretti tra Varsavia e Kiev in materia di gestione, ma anche a livello proprio di pubblica amministrazione, di equiparazione dello status dei cittadini polacchi rispetto a quelli ucraini, eccetera. Quindi diciamo che ci sono dei segnali che vanno in questa direzione, ma che mi pare si possano desumere anche dal tipo di atteggiamento che la Polonia ha adottato nei confronti per esempio della Germania, che la Germania è stata più volte umiliata a livello verbale da alcuni rappresentanti polacchi, la Polonia si è spinta a definire la Germania, la Germania di fronte, qualora dovesse scoppiare un confronto, anche diciamo di un certo tenore degli Stati Uniti verrebbe polverizzata, perché la Germania non è una grande potenza, la differenza degli Stati Uniti, il che è vero, chiaramente, è verissimo. Il problema è che non è il linguaggio della diplomazia questo, soprattutto non si dice aperti sverbi, cose di questo genere. Il problema è che la Polonia ambisce in tutta evidenza, a mio parere, da un lato ad appropriarsi di alcuni territori dell'Ucraina, come ho appena detto, dall'altro lato a imporsi come principale alleato degli Stati Uniti in territorio europeo, come avamposto, testa di ponte statunitense in Europa, al limite anche dotata di armi nucleari statunitensi sul proprio territorio e in potenza industriale sostitutiva essenzialmente la Germania, perché ritenuta, perché incapace di presentarsi agli occhi di Washington, come più affidabile rispetto alla Germania, i cui colpi di coda, i cui slanci talvolta la portano ad assumere delle posizioni che non sono sempre aggredite agli Stati Uniti, come per esempio quella nei confronti della Cina, con il viaggio di Scholz, organizzato per Scholz dalla delegazione degli industriali tedeschi. Ecco, appunto, dove è stata la potentissima confindustria tedesca che ha portato Scholz, no? Sì, sì, e poi un altro esempio, mi pare lampante, è stata proprio la reazione dell'ex ministro degli esteri polacco, che era ministro degli esteri all'epoca di Euromaidan, anche di fronte all'esplosione di due gasdotti in Nord Stream, postò sul suo profilo Twitter una foto dell'esplosione con su scritto grazie ai Stati Uniti. La distruzione di infrastruttura sotto il controllo tedesco che viene salutata in quella maniera da un ex ministro degli esteri, tuttora parlamentare polacco, è una derisione clamorosa, un'umiliazione nei confronti della Germania che in altri tempi sarebbe stata giudicata inaccettabile. Inaccettabile. Giacomo e Stefano, una parola a te adesso, tra l'altro che la Polonia fosse destinata ad annettersi un pezzo dell'Ucraina, l'avevamo detto alcuni mesi fa, in tempi non sospetti, no? Sì, bisogna vedere se poi resterà in suo possesso quel pezzo di Ucraina per poterselo annettere. Volevo agganciarmi a una cosa che ha detto prima Giacomo relativamente a un attacco alla centrale nucleare di Zaporizh, perché mi preme sottolineare come i media abbiano nuovamente abbracciato la tesi che i russi si bombardino da soli. A denunciare il bombardamento dopo averlo effettuato, tra l'altro i russi hanno anche postato i video dei bombardamenti che arriva sulla centrale e tra l'altro alcune delle zone sono state colpite dal lato verso il fiume Dnepr e questo impone per forza di cose che i colpi siano arrivati da nord, quindi dalla zona sotto controllo ucraino e non dalle zone sotto controllo russo. Loro avanzano sempre la tesi accolta dai nostri media che i russi si bombardino da soli, perché si divertano, mentre invece Kiev che cerca di sfottare l'emotività legata a un bombardamento su una centrale nucleare a proprio favore accusando i russi, ben sapendo che i media occidentali appoggerebbero comunque questa tesi. Abbiamo visto tra l'altro come una volta si è accertata la responsabilità ucraina per la morte dei due operai dell'industria agricola polacca, hanno messo tutto a tacere e nessuno si è più lamentato di nulla, nessuno ha più invocato alcun articolo, sebbene sia stato colpito ugualmente il territorio della Nato. Ma era una cosa già accaduta a tempo dietro, perché se ricordiamo al 3 marzo di quest'anno gli ucraini avevano abbattuto un MiG-21. Poi le rivelazioni del giorno 8 e 9, mi sembra si è uscita la notizia da fonti rumene che erano stati gli ucraini ad abbattere, lo stesso giorno era accaduto sia al MiG-21 che l'elicottero che andava a recuperarlo, a soccorrere il pilota, quindi abbiamo avuto due cadute che sono casi eccezionali, statisticamente è impossibile che due mezzi tenuti in efficienza dall'aeronautica cadano lo stesso giorno, un era un Puma dell'Aerospatial di produzione francese e in realtà erano stati probabilmente abbattuti entrambi dagli mezzi antiaerei ucraini, però naturalmente per esigenze belle che hanno messo tutto a tacere. Il discorso è questo, l'Ucraina e la Polonia agiscono di concordia nel gestire le informazioni, le notizie, la difesa, c'è addirittura un'alleanza parallela alla Nato che lega l'Ucraina, la Polonia e la Gran Bretagna e adesso forse si stenderà ad altri paesi se davvero non riusciranno a entrare nella Nato, Svezia e Finlandia. E al G20 della scorsa settimana la Russia si è dimostrata aperta a un trattato, Stefano, ma Zelensky ha posto delle condizioni, come ne definisci queste condizioni? Tra l'altro un video del tuo canale proprio la settimana scorsa diceva, mi sembra il concetto era, l'Ucraina, Zelensky tratti la cessazione finché è ancora in tempo, no? Sì, di fatto io ho fatto un'analisi relativa alle condizioni della rete elettrica ucraina al momento che è quasi disperata, nel senso che più del 40% delle centrali di produzione sono danneggiate e inefficienti e quindi non possono essere utilizzate e poi la rete di distribuzione è letteralmente a pezzi. Come dicevi giustamente tu in apertura, il piano per la regolamentazione dei consumi e quindi i blackout programmati è saltato completamente, i blackout avvengono in continuo ad Odessa, abbiamo avuto diversi giorni senza la minima erogazione di energia, tant'è che si sono avute delle manifestazioni di piazza da parte della popolazione che è scesa a protestare, molti di questi sono stati arrestati, picchiati e portati in televisione perché si scusassero per aver protestato per le loro esigenze ed è una cosa che ci rivela la natura del regime che c'è in Ucraina. L'altra cosa è che di fronte all'arrivo dell'inverno abbiamo le prime nevicate, questa fino a mercoledì sono sotto zero in molte regioni dell'Ucraina, soprattutto in quelle nord, avere un intero paese, circa 30 milioni di persone senza riscaldamento o energia elettrica è un incubo perché porterebbe queste persone a cercare di salvarsi di fronte alle gelate, poi che da dicembre fino a febbraio ci saranno e a portarsi magari a vivere nell'Europa dove trovare il ristoro, ma 10-20 milioni di persone come le possiamo accogliere? È impossibile, per questo è necessario che Zelensky si adegui a questo. Quello che ha fatto invece di fronte a un'apertura al dialogo spinta dai servizi segreti, tra l'altro americani, la Russia ha atteso la mano per dialogare e loro hanno avanzato delle richieste tali per essere sicuri che fossero assolutamente rifiutate, compreso il ritiro delle forze russe dalla Crimea, cose proprio fuori dal mondo. Sentiamo Giacomo che l'abbiamo fatto un po' riposare nel frattempo perché ho chiesto l'intervento. Qualche... Senti, no Giacomo, la situazione potrebbe, da un punto di vista proprio di manifestazioni di popolo, potrebbe, perché giustamente Stefano faceva ricordare, ci informava che c'erano state, sono state, sono successe queste cose addirittura di manifestanti portati in televisione, potrebbe sfuggire di mano a livello di proteste la situazione alla... Il rischio c'è, inutile, non si può negare, chiaramente a fronte di una prospettiva di questo genere in cui milioni di persone rimangono al buio, rimangono senza elettricità, senza riscaldamento, eccetera, con tutte le linee di comunicazione o distrutte o gravemente danneggiate reso comunque impraticabili, la situazione si fa pesantissima e aspettarsi la pazienza, la calma, la ragionevolezza da parte di condizioni di questo genere è difficile. Anche, scusami, anche se, voglio dire, è stato dipinto in questi anni dalla fiction televisiva come servitore del popolo, no? Zelensky, è difficile dopo a un certo punto, no? Quando ti passi qualche settimana, se non di più, alla diaccio in casa, è difficile dire che è proprio il servitore del popolo, no? Ma il problema è proprio quello, è che quello che, secondo me, chiunque abbia un po' di ragionevolezza, di senso critico, si spinge a dire dall'inizio. Quando noi stessi, ma non eravamo gli unici, dicevamo già a marzo, febbraio, che chiaramente quella che la Russia stava conducendo era una trattativa armata, in cui alzava costantemente la posta in gioco per cercare proprio di portare avanti una trattativa parallela allo scontro sul campo aperto e quindi proprio mostrava le proprie capacità belliche, ogni qualvolta si trattasse di forzare la mano, cercare di obbligare gli ucraini comunque ad intavolare trattative serie, lo sbocco non poteva che essere questo. Se il voler aver fatto credere sia alla buona parte delle popolazioni dell'Europa occidentale che una parte degli ucraini che questa guerra possa essere veramente vinta, è qualcosa che poi ha quelle conseguenze, perché è chiaro che gli russi continuano ad alzare costantemente la posta, alzano, modificano il livello degli obiettivi, la natura degli obiettivi e aumenta proprio la soglia di distruzione e l'impatto sulla popolazione si fa sempre più pesante. In un momento in cui era emerso, non mi ricordo in quale sito, era un sito comunque affidabile, che questa era una delle poche guerre in cui il numero dei morti militari è superiore a quello dei morti civili, quindi testimonia che la guerra è stata condotta in una maniera molto particolare e molto anomala rispetto a come siamo stati abituati, rispetto al tenere degli ultimi conflitti perpetrati dai nostri padroni, barra le legati e da noi vassalli, per esempio in Libia o in Iraq, tanto per dirne una. Sì, tra l'altro è da riportare la dichiarazione in questo contesto oltreatlantico del capo di Stato Maggiore dell'esercito americano Mark Milley che ha esortato Kiev e Mosca a trovare una soluzione politica, soprattutto in prospettiva adesso dell'inverno che per quanto riguarda le temperature è già iniziato in Ucraina, e Milley dice che la possibilità di una vittoria militare totale da parte dell'Ucraina è improbabile. Domanda, i militari in America si stanno rivelando più realisti dell'amministrazione Biden? Direi che indubbiamente così ci sono, non è una cosa che mi stupisce onestamente, capita molto spesso che gli addetti, gli specialisti, gli addetti al mestiere proprio abituati a tenere le armi e quindi ad avere una cognizione di causa maggiore rispetto ai venditori di fumo e abbiano una capacità di discernimento di gran lunga superiore e un equilibrio di giudizio maggiore, forse perché non devono rispondere direttamente a questo o quel centro di potere, a questo o quella lobby, magari soprattutto capiscono qual è la posta in gioco e quali sono i rischi. Il punto qui è veramente, come dicevamo all'inizio, voler sacrificare, cioè combattere la Russia fino all'ultimo Ucraino, perché si profila veramente questo tipo di scenario in cui, questa è una guerra, si parlava come di io, non mi stancherò mai di ripeterlo, uno degli obiettivi indicati da Putin era quello di demilitarizzare l'Ucraina e demilitarizzare l'Ucraina vuol dire metterla nelle condizioni di non nuocere e quindi privarla della capacità di costituire un esercito, che non significa solo distruggergli le fabbriche eccetera, ma per esempio falcidiare tutta la popolazione ruolabile, se le cose vanno avanti così. Perché è chiaro che se non si intavola una trattativa seria in cui si cominci a parlare di cose veramente credibili e non di queste cose, di queste sparate allucinanti, in cui prima, secondo le quali, prima di intavolare le trattative i russi devono ritirarsi da tutti i territori, ma queste sono quelle posizioni che proprio portano il mondo allo sfacelo, l'abbiamo già visto accadere e purtroppo non sembra che prevalga la ragionevolezza. Sì, ecco in questo contesto, in tutto questo contesto io vorrei ricordare le affermazioni a botta calda di Enrico Letta e di Carlo Calenda la scorsa settimana in tweet in seguito alla alla caduta del missile in territorio polacco, dice bisogna distruggere praticamente, bisogna distruggere la Russia. Che poi, se mi posso permettervi di dire una cosa, ce li vedrei a questi personaggi con un fucile in mano a dar veramente seguito alle loro uscite, alle loro prese di posizione. È una cosa veramente fuori da ogni logica, io non ho più parole. Sì, no, oltre che fuori da ogni logica sono molto pericolose queste affermazioni perché rischiano magari in prospettiva di creare una situazione molto brutta, visto che insomma volenti o nolenti sono degli esponenti di, che lo si creda o no, sono comunque degli esponenti di spicco della politica, di primo piano della politica italiana. Stefano, la dichiarazione di Mark Milley, poi Giacomo ha fatto un'analisi a ampio spettro, a te la parola. Guarda, credo che la dichiarazione di Mark Milley sia da ritenere collegata ai servizi che sono usciti sulla CNN, perché la CNN storicamente è un'emittente molto legata al Partito Democratico, che è al governo degli Stati Uniti. Fosse stata Fox News, che è dalla parte opposta a far uscire questa notizia, l'avrei presa più con le pinze. Ma uscito dalla CNN è un messaggio chiaro al proprio elettorato. in pratica preparano una exit strategy da parte degli Stati Uniti rispetto agli impegni con l'Ucraina. Di fatto erano loro probabilmente ad aver immaginato una guerra molto più breve rispetto a quella che si sta verificando. Hanno sottostimato enormemente la capacità russa di proseguire in una guerra ad altissima intensità anche contro tutte le forniture della NATO e invece questo sta avvenendo. È da marzo che ci dicono che hanno finito i missili e da marzo che probabilmente i russi non leggono i giornali nostri e continuano a lanciarli. Mark Milley conosce molto bene la situazione degli stoccaggi delle riserve strategiche statunitensi che non possono in nessun caso scendere sotto un certo livello perché esporrebbero la capacità degli Stati Uniti a reagire a un'eventuale alta crisi che dovesse verificarsi nel mondo e parlo di Taiwan per capirci. Perché la discesa di queste riserve al di sotto di un certo limite esporrebbe la capacità di difesa in situazioni di crisi e di rifornire adeguatamente Taiwan come si ripropongono di fare. E questo non se lo possono permettere. Gli ucraini evidentemente questo non lo capiscono molto, credono probabilmente alle proprie storie ed è pericolosissimo quando il contatto inizierà a credere alle proprie frottole perché non si sa dove può finire. Sì, direi per completare il cerchio e proprio raggiungere l'ultimo tassello a questo mosaico all'indomani della conquista della Camera dei rappresentanti grazie all'esito delle elezioni di midterm negli Stati Uniti appunto è stata istituita una commissione americana che chiede un chiarimento di dove vanno i finanziamenti per sostenere economicamente l'Ucraina. Giacomo. Beh sì, diciamo che queste iniziative sono in linea con gli annunci che erano stati formulati alla vigilia delle elezioni di midtermina da diversi esponenti del partito repubblicano i quali un po' per cavalcare con il malcontento che serpeggia per l'aumento dell'inflazione sul piano domestico hanno puntato il dito contro l'utilizzo dei fondi. Quindi una deputata mi sembra del New Mexico se non ricordo o no, del North Carolina, non mi ricordo bene. Comunque una capogruppo, la Camera, forte, fervente sostenitrice di Trump peraltro, aveva dichiarato che con la conquista della Camera ad opera dei repubblicani si sarebbe assistito a una riformulazione dell'impegno statunitense nei confronti dell'Ucraina, perché diceva testualmente il cittadino medio statunitense è molto più preoccupato dall'incremento dei prezzi della benzina sul piano interno o della protezione dei confini degli Stati Uniti rispetto alla protezione dei confini dell'Ucraina e quindi diceva reclamo un utilizzo ben diverso dei fondi statunitensi. Fra l'altro l'Interpol fin da i mesi di aprile, aprile e marzo, tratteggiò diversi scenari piuttosto preoccupanti, ma non troppo sorprendenti per chi un po' mastica di queste questioni, praticamente evidenziava che la possibilità concreta, che un paese particolarmente caratterizzato da un elevato grado di corruzione tra i funzionari pubblici, che improvvisamente si vede piovere addosso queste forniture di armi e di finanziamenti praticamente a fondo perduto e difficilmente tracciabili nelle loro destinazioni finali, potessero finire in realtà in mano a gruppi terroristici e gruppi armati di vario genere, potessero comunque in ogni caso, molto più genericamente, sfuggire al controllo degli erogatori di queste sovvenzioni e di questi aiuti militari. Per cui diciamo che una frangia del Partito Repubblicano punta anche su questo, cioè quindi a far luce sull'utilizzo concreto che gli ucraini stanno facendo di questi aiuti che stanno fornendo gli Stati Uniti, come diceva Stefano, specialmente alla luce del sottigliamento delle riserve strategiche, quindi degli arsenali proprio, di quelli che sono l'apparato diciamo di dissuasione che mantiene dal punto di vista statunitense eternamente concreto anche la capacità di rappresaglia statunitense nei confronti della Cina in caso di invasione di Taiwan, questo nella percezione degli Stati Uniti chiaramente. Certo, Stefano, l'istituzione di questa commissione negli Stati Uniti da parte del Partito Repubblicano, segna anche questa una chiave di volta nella storia del conflitto russo-ucraino e dell'impegno ovviamente dell'Occidente? Credo che ci siano più di un'iniziativa da parte repubblicana volta a chiarire i rapporti anche dell'amministrazione Biden o di Biden stesso con l'Ucraina, nel senso che questo fiume di danari nel paese tra i più corrotti al mondo non può avvenire in assenza di controllo da parte degli arroganti. La stessa destinazione finale degli armamenti così generosamente forniti, ricordiamo più di un terzo delle riserve strategiche di missili anticarro statunitensi sono state date all'esercito ucraino, nessun esercito al mondo tranne quello statunitense ha a disposizione un tale quantitativo di armamenti, è di fatto il più forte in Europa al momento l'esercito ucraino per la quantità di forniture che ha avuto, eppure queste vanno esaurendosi più velocemente di quello che pensavano senza gli esiti soprattutto che speravano gli Stati Uniti. Le altre iniziative sono legate agli interessi della famiglia Biden in questi anni con lo Stato e gli apparati corrotti ucraini che coinvolgono sia il figlio Hunter che addirittura hanno citato traffici umani, non so bene a che livello siano riferiti questi traffici umani di cui parlavano, però le cose sono piuttosto gravi a livello di volumi di affari. Bisogna vedere un attimo come finiranno il problema delle commissioni al momento, siccome i poteri sono divisi tra congresso e senato, che al congresso svolgono le attività di istruttoria, quindi indagini e poi però è il senato che giudica, quindi al senato per poco ma è ancora sotto controllo democratico e quindi la cosa diciamo che si protrarrà per i prossimi due anni per cercare di preparare la campagna elettorale che sappiamo vedrà di nuovo Trump come protagonista. Di questa parleremo anche nella seconda parte della nostra intervista che andrà in onda domani alle 12.30. Di sicuro in questi secondi due anni dell'amministrazione Biden si registrerà un certo rallentamento e probabilmente anche poca capacità di prendere decisioni anche a livello geopolitico riguardo al conflitto russo-ucraino, anche perché questo naturalmente come abbiamo detto, come avete evidenziato, l'opinione pubblica è sempre più contraria perché mette in primo piano inevitabilmente le esigenze interne. Ci stiamo avviando verso la conclusione di questa prima parte. Se pensi che il lavoro che il vaso di Pandora sta portando avanti quotidianamente da quattro anni sia un servizio importante e ti aiuti ad essere meglio informato e meritiamo il tuo sostegno, allora supportaci con la tua donazione. Ti ricordo che il nostro canale è demonetizzato da YouTube ma abbiamo per te due possibilità, se lo vuoi e se ritieni appunto che lo meritiamo, per sostenerci. Il bonifico bancario libero oppure la possibilità di unirti con un abbonamento a Patreon. La piattaforma Patreon è la community che abbiamo creato da poco che ti permette di avere uno scambio più vicino con noi e di fruire di informazione e materiale extra. Ti ricordo che il tuo sostegno è fondamentale per l'esistenza ed evoluzione del vaso di Pandora. Qui sotto il video trovi nel testo i riferimenti per scegliere come sostenerci. Si chiude qui la prima parte. Io ringrazio tutti Stefano, Orsi e Giacomo Gavellini e do a tutti voi appuntamento a domani alle 12.30.